Se dovrebbe imparare la sicurezza delle persone, diciamo, come un principio parlamentare, mi sono chiesto come mai, tra tutte le proposte che ho visto, io ho letto, ma in realtà mi siano sfuggite, cioè non vi sia niente, ad esempio, che chieda di abolire nell'articolo 142,6 bis, cioè la storia dei cartelli del poter vedere la battuglia che non vi sia l'intersezione, cioè per il controllo sulla velocità, a mio avviso non vi è volontà politica di fare un controllo sulla velocità, sia in ambito urbano, sia in ambito estro-urbano, cioè la velocità è una di quelle cose che forse non è causa di incidente, ma sicuramente modifica l'esito dell'incidente. Allora, lì forse bisognerebbe un pochino andarci a guardare un po' meglio. Un'altra cosa che non riesco a capire, ad esempio, come mai sul nostro codice, se andiamo a leggere a modo, non vi sia l'obbligo di circolare con la luce accesa in sera in bicicletta. Questo non è un obbligo, se andiamo a leggere bene. Io avevo scritto anche una mail, non so se mi ha risposto anche lei, o solo non le volo meta, non mi ricordo, nello scorso anno. Questa sarebbe una cosa da andare a correggere, perché nell'ultima riforma del codice vi è stato aggiunto un paio di paroline che hanno fatto sì che l'obbligo di circolare, cioè l'obbligo di tenere la luce accesa di sera non sia più soluzionabile. E questo, secondo me, è un comportamento che, al di là che non ci dovrebbe neanche essere bisogno, anche se è stato il codice di non accendere la luce, vuol dire, è una questione di buon senso. Però, se uno non le accende, non è possibile riprenderla. Allora, il tema della velocità è un tema fondamentale, e io mi chiedo come mai nessuno si sia preso a vega di dire cerchiamo di tirare via tutti quei lacciolaccioli che impediscono sia all'ente locale che sia all'ente caroviniera e polizia stradale di fare un effettivo controllo sulla velocità da qualunque parte. Per quale motivo devo avvertire prima che vi sarà un controllo sulla velocità? E' l'unica norma che noi dobbiamo avvertire prima che vi sarà un controllo. Mi sembra una cosa forza in mente. Allora, io direi che a questo punto...